Non parteciperò alle prossime elezioni e voglio spiegare il perché agli ascoltatori di Porta a Porta. Avevo promesso a me stesso e agli italiani, che mi hanno dato fiducia tante volte negli ultimi anni, che non avrei più partecipato a delle coalizioni incoerenti. E purtroppo, pur avendo apprezzato molto il processo delle primarie del Partito Democratico, un grande momento di democrazia e di partecipazione, il riproporsi di un'alleanza con forze di sinistra radicale che già oggi stanno mettendo in evidenza dalla politica internazionale alla patrimoniale, ad altri temi polemici, esattamente quello che noi col governo Prodi avevamo sofferto dalle posizioni dell'estrema sinistra che aveva reso impossibile governare. Ecco, questa situazione si ripete e la mia opinione invece è un'altra, e cioè, primo, che occorra andare sulla base del mandato popolare, quindi affidando l'incarico di governo a chi prevarrà nei consensi, ad una larga coalizione. Perché la crisi economica è destinata a durare e le difficili riforme non possono essere condotte da chi abbia una ristretta maggioranza di voti popolari e di voti parlamentari. Secondo, mi piacerebbe che in campagna elettorale si parlasse non solo di recriminazioni sul passato, tu hai fatto questo, tu hai messo le tasse, tu hai sbagliato, la crescita, la disoccupazione, temi reali, ma tutti rivolti all'indietro, piuttosto manca fin qui una proposta per il futuro, ed è una sfida che credo va rivolta a tutti i partiti politici. Io penso in particolare che la green economy, cioè le soluzioni che portino lavoro, creino impresa, migliorino l'ambiente, la salute, un futuro tecnologico per le nostre città, le imprese e le famiglie, sia un grande tema assente e che proporrò da fuori, da non candidato, anche in questa campagna elettorale, continuando a fare politica con api, Alleanza per l'Italia.